Musica Angelo Bignami, Sida e buongiorno, siamo all'evento Metelma, è anche l'occasione per, visto che inizia l'autunno adesso per dire che sta facendo la vostra azienda in questo momento e svelare magari anche qualche programma futuro. Ma certo, dunque, noi ci siamo visti da poco, molto abbiamo detto. Hai già partecipato alla nostra convention, partiamo dal secondo aspetto, quindi cosa sta facendo l'azienda, l'azienda sta completando un ciclo di innovazione, in questa innovazione c'è anche il tema trattato oggi, quello della fatturazione, che comprende anche tanti aspetti, sono stati anche toccati in parte negli interventi oggi, quindi è anche un cambiamento culturale all'interno delle aziende, al di là di un cambio di sistema. Devo dire che, ecco, venendo all'evento Metelma e sapendo l'oggetto oggi della discussione che ci sarebbe stata, temevo, non essendo, come dire, molto schillato nell'informatico, nella parte informatica, quelle tipiche riunioni, non dico un po' noiose, ma insomma. E invece, ecco, devo fare i complimenti a Giorgio Casanova perché ha strutturato degli interventi molto, molto interessanti, devo dire anche pratici, anche per chi non è specialista nell'informatica e ho le idee molto più chiare su quello che come azienda dovremmo fare. Dubito che il gennaio sarà la deadline, sarà il punto di partenza perché così credo che non ci sia ancora una, soprattutto ecco, una cultura per poterlo affrontare. Parliamo anche di produzione, per chi è? Certo, la nostra produzione, beh, ecco, a breve, brevissimo, usciremo con una gamma di nuovi prodotti, stiamo, diciamo, alla fase 2 dell'azienda, della riorganizzazione aziendale, quindi adesso abbiamo quasi completato la parte commerciale, quindi esterna, stiamo lavorando sulla parte interna, quindi la produzione, noi siamo un made in Italy vero, nel senso che tutto viene prodotto o da noi o delle aziende intorno a noi e questa evoluzione ci aiuta molto, come dire, abbiamo tante qualità, la rapidità dell'innovazione non è proprio uno dei nostri, delle nostre forze, i nostri master, stiamo lavorando molto su quello, proprio per questo anche qui i concetti della digitalizzazione sono fondamentali.